lui che è stato medagliato già a livello assoluto e nazionale maggiore universia di 2017 europei di Vasca Corta finalista nei 200 stile libero Fabio Lombini in corsia 5 Alessio Gerardin, Antares Nuoto alla 6 Gabi Scantamburlo, stile libero 7 Thomas Ferroni, team Veneto in 8 Alessio Sartoretto, Idros in corsia numero 3 per l'Aleosport primatista italiano assoluto dei 200 misti a livello giovanile ha vinto gli europei ha vinto i mondiali e ha vinto le olimpiadi a livello assoluto è stato finalista agli europei semifinalista ai mondiali di Guangzhou Thomas Ciccone in corsia numero 3 per l'Aleosport E allora prima serie in acqua per questi 400 stile libero Fabio Lombini in corsia 4 per l'insport Rane Rosse, il suo primato personale in Vasca Corta 3.45.71 datato 2017 europei di corta di Copenaghen. Mentre Thomas Ceccon non manca nulla nella sua carriera giovanile, ha vinto tutto quello che si poteva vincere, Euro Junior, Olimpiadi Junior di Buenos Aires e ha chiuso il cerchio proprio l'estate scorsa vincendo il titolo ai Mondiali Junior di Budapest. A livello assoluto sono sei i titoli italiani e quindi l'esperienza con la nazionale maggiore agli europei di Glasgow 2018 e l'ultima ai Mondiali di Guangzhou del 2019 dove è stato semifinalista nella gara dei 100 d'orso. Ceccon in grado di nuotare al meglio davvero tutti e quattro gli stili e un ottimo mistista, dorsista però insomma è anche il secondo all time nei 50 farfalla e nuota eccellentemente davvero anche le prove dello stile libero. Dunque 150, 28 e 95 lui, Lombini 29 e 21, Gerardin in terza posizione 30 e 39. Virata dei 200 metri, metà gara, 153, 80, 30 e 09, i suoi quarti 50, Fabio Lombini 29 e 49, Alessio Gerardin 30 e 53. Presentiamo la seconda serie dei quattro stile ragazze, alla 1 Giulia Pellicari, alla 2 Elenia Cozzi, 3 Giada Solmi, 4 Maria Viscardi, 5 Claudia Bergamina, 6 Anna Chiara Portolan, 7 Gaia Simeoni, 8 Rebecca Mazzocucci. Cambia ritmo Fabio Lombini nuota 28 e 70, ultimo tratto quindi prende il comando atleta dell'in sport classe 1998, abbiamo detto per lui Universiadi di Taipei, quarto di Staffetta e Europei di Copenhagen con la finale dei 200 stile libero. Ancora sotto 28 e 32, Lombini, Thomas Ceccona 31 e 26, Alessio Gerardin 30 e 69. Naturalmente siamo all'inizio di stagione quindi piena fase di preparazione e di carico, quest'anno è un anno super importante, si parte con gli europei di corta e poi si chiuderà con l'appuntamento clou, ovvero i giochi di Rio. 28 e 41, intanto Fabio Lombini ancora su quel passo, il suo primato personale in Vasca Corta abbiamo detto 3,45 e 71. Ultime bracciate dunque per Fabio Lombini che ottiene davvero una grande prestazione, vince il 400 stile libero 3,47 e 67. Davvero super tempo per essere nel mese di ottobre, Fabio Lombini 3,47 e 67. Seconda posizione Thomas Ceccona 3,57 e 11, terzo Alessio Gerardin 3,59 e 36. Però facendo il riepilogo sale in terza posizione Alberto Camilotto dalla seconda serie con 3,57 e 60.